Musica Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Riete Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. Si prepara la rivoluzione in centro con i cantieri al via in primavera, via Sant'Agnese, via Varrone e piazza Oberdal, ma soprattutto via Cinzia e via Garibaldi. L'obiettivo è rendere la vita un po' più facile ai residenti e ravvivare il commercio. Parcheggi pronti a sparire in via Cinzia, nel tratto da Porta Cinzia all'incrocio con via dei Pini all'Inps, insieme al marciapiedi per favorire il transito pedonale, soprattutto degli utenti con disabilità o delle mamme col passeggino, ma anche per scoprire le vetrine e dunque invogliare all'accesso nelle attività, senza il muro di macchine davanti agli ingressi. Sì, situazione analoga in parte di via Garibaldi, quella che da Palazzo del Comune va verso il teatro e in tutta via Varrone, dove di posteggi rimarranno solo quelli di servizio e per i disabili. Metteremo dei dissuasori di parcheggio, arredi che non consentano sosta e fermata, ha spiegato a Riete Life l'assessore Claudia Chiarinelli. Si indaga ancora per cercare la verità sulla morte di Matteo Concetti, il 25enne reatino che si è tolto la vita nel carcere di Ancona. Sabato sono stati celebrati i funerali a Chiesa Nuova con Don Fabrizio Borrello, che ha parlato di un grido di dolore lanciato da Matteo. Lo stesso dolore è intriso nel viso dei tanti presenti al funerale. La famiglia vuole la verità sulla sua morte per capire le motivazioni per le quali le avvisaglie di insofferenza sono rimaste inascoltate. Il sogno della svolta green sulla tratta sul Mona L'Aquila-Rieti-Terni svanisce. Come riporta Open Rieti, citando Ferrovie.info, infatti nell'ultima riunione del comitato di indirizzo si è preso atto che la realizzazione dell'intervento di trasformazione del treno da combustibile fossile a idrogeno verde non può procedere a causa dell'inattuabilità tecnica in ragione della notevole complessità infrastrutturale della linea. A dirlo è il ministro Nello Musumeci che di fatto chiude ogni possibilità di svolta green ma che garantisce la soppressione di alcuni passaggi a livello e la rettifica di alcune curve lungo la linea con l'obiettivo di una riduzione dei tempi di percorrenza e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Lo sport e il calcio, la SSA Rieti, targata Gardini, non sbaglia contro la Pescatori Ostia, successo con un netto 4-0 e vetta che rimane a sole tre lunghezze di distanza. Migliore della partita è stato sicuramente il nuovo acquisto Alessandro che ha siglato una doppietta. Ingolla anche Bomber Rossi e Giovannini sul finale. In promozione al Gudini il derby contro i rivali di sempre della Viterbese per l'FC Rieti, goleata degli uomini di Battisti che battono i giallo-blu 7-1 e mantengono la distanza di sicurezza dal Monte Rotondo, lontano sempre 4 punti. Il basket e il derby tra la Real Sebastiani e la Luise Roma è andato ancora una volta agli Amaranto Celesti. Risultato finale 81-72, un match equilibrato fino alla fine del terzo quarto. Poi sono saliti in cattedra Johnson e Sarto che hanno chiuso il match con 18 punti a testa. Sponda NPC trasferta a Mara per gli uomini di coach Ponticello che sono usciti sconfitti da Livorno contro la PL. Roderick questa volta ha fallito l'appuntamento e non è riuscito a portare alla vittoria i suoi per soli 8 punti. Risultato 90-73. Era questa l'ultima notizia del telegiornale di Rieti Life che torna domani sempre alle 20.45 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata. Buona serata.